Sei sicura? A questa velocità lo spazio di frenata è di oltre 100 metri. Poi senza cintura, sai come ti diverti? Vai perché? Cioè, tornerei a casa prima del tempo e non troverai tuo marito. Andrai su tutte le furie disturbando i vicini, tra cui quel pugile con un passato nei Marines. Nel frattempo, tuo marito tornerà a casa dopo il calcetto. Un curioso qui pro quo che gli costerà gli incisivi e sei mesi di cibi liquidi. Giovedì calcetto, lo sanno tutti. Grazie.